Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò del rinnovo, siglato da Confcommercio e Manager Italia, della parte economica del contratto collettivo nazionale dei dirigenti del terziario. Il rinnovo interessa oltre 27.000 dirigenti e 9.000 aziende. L'accordo prevede un aumento pari a 150 euro lordi mensili a decorrere dal 1 dicembre 2023. 150 euro lordi mensili a decorrere dal 1 luglio 2024. 150 euro lordi mensili a decorrere dal 1 luglio 2025. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende, in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019. L'accordo prevede anche una tantum ad integrale copertura del periodo 1 gennaio 2020, 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo, i vi compresi quelli nominati nel suddetto periodo. L'importo una tantum è pari a 2.000 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in tre tranche secondo le seguenti scadenze. 700 euro con la retribuzione di maggio 2023. 700 euro con la retribuzione di settembre 2023. 600 euro con la retribuzione di novembre 2023. Ai dirigenti assunti nel periodo 1 gennaio 2020, 31 dicembre 2022, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto. Se ti è piaciuto il video, e lo hai trovato interessante, clicca mi piace e iscriviti al canale. Grazie per l'attenzione.